Nelle scorse ore un primo afflusso di aria fredda ha già determinato un generale calo delle temperature che si sono riportate su valori invernali, con anche delle nevicate che si sono verificate oltre 700-800 metri di quota. La giornata di domani vedrà una temporanea fase di stabilità con temperature comunque di stampo invernale, che precederanno appunto un deciso peggioramento che si avrà nella giornata di domenica, quando un impulso di aria fredda di origine artica raggiungerà il nostro territorio, determinando a partire dalla tarda mattinata, in particolare nel pomeriggio sera, dei fenomeni diffusi che risulteranno a carattere nevoso fino a quote molto basse. La neve infatti potrà cadere oltre i 200-300 metri di quota localmente e anche in pianura sulle zone pianeggianti interne, mentre la costa difficilmente vedrà la neve se non qualche fiocco misto a pioggia, in particolare sui settori centosettentrionali costieri, ma che poi nel corso della serata notte tenderanno a trasformarsi in pioggia proprio per l'aumento dei venti dai quadranti nord-orientali, che faranno leggermente aumentare le temperature proprio sui settori costieri. Mentre sull'Appennino vedrà delle nevicate a tratti anche copiose, che si protrarranno anche per tutta la giornata di lunedì, in particolare oltre i 700-800 metri potranno cadere anche 30-40 centimetri di neve fresca. Le temperature, come detto, continueranno a diminuire, in particolare nella giornata di domenica e agli inizi della prossima settimana, con un clima invernale su tutto il territorio.